Ciao! Vuoi capire in un minuto come fare una formula inversa? Guarda qui! Qui ad esempio abbiamo la formula della termologia Q uguale M per C per ΔT Voglio ricavare C 1 Cerchio la grandezza che voglio ricavare 2 Divido ambo i membri per le grandezze che restano accanto a quella che voglio ricavare Quindi M per ΔT M per ΔT 3 Semplifico al secondo membro 4 Leggo quello che mi resta Da destra verso sinistra C uguale Q fratto M per ΔT 5 Scrivo la formula al contrario Riepiloghiamo Riguarda attentamente i 5 punti Esercitati scegliendo formule simili Alla prossima!